Se siete interessati a diventare fotografi professionisti, allora il video di oggi fa per voi perché vi racconterò 5 consigli per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e a trasformare la vostra passione per la fotografia in un lavoro vero e proprio. Ogni punto è fondamentale, quindi assicuratevi di restare fino alla fine, anche perché all'interno del video troverete una sorpresa creata in collaborazione con Fisco Zen che ci ha aiutato a fare questo video, però ne parliamo dopo. Prima cosa, imparate le basi tecniche. Se volete padroneggiare questo mestiere dovrete conoscere a fondo la tecnica fotografica. Conoscere le basi è di vitale importanza per qualsiasi fotografo che vuole diventare un professionista. In molti casi, ad esempio, potreste trovarvi a scattare in situazioni molto difficili dove non avete il pieno controllo della situazione o dove avete poco tempo a disposizione. In queste situazioni la conoscenza delle basi tecniche della fotografia e la padronanza della vostra attrezzatura diventano estremamente importanti. Ad esempio, se siete impegnati a scattare un matrimonio e volete catturare l'uscita degli sposi dalla chiesa con quella bellissima luce forte di mezzogiorno, è fondamentale che conosciate bene la vostra attrezzatura e che sappiate come utilizzare le varie impostazioni per essere proprio in grado di catturare l'immagine nel momento giusto e nel modo giusto, senza magari rischiare di bruciare l'immagine. O al contrario, se siete costretti a lavorare in condizioni di luce scarsa, conoscere bene l'esposizione da utilizzare, la luce e le capacità della fotocamera vi permetterà di catturare delle immagini che siano nitide e ben illuminate. 2. Sviluppate il vostro stile La fotografia è un'arte e come tale ha bisogno di avere un tocco personale. Una volta che avete imparato le basi tecniche della fotografia, è importante che iniziate a sviluppare il vostro stile personale. Lo stile è ciò che vi distinguerà dagli altri fotografi e vi renderà unici. Si tratta del modo in cui scegliete di comporre le vostre immagini, di utilizzare la luce e di raccontare una storia attraverso le vostre foto. Però riguarda anche il mood, i colori che volete donare alle immagini. Per sviluppare il proprio stile è importantissimo che esploriate diverse tecniche fotografiche e che analizziate appunto le immagini di altri fotografi per capire cosa vi piace e cosa non vi piace. Fatevi proprio una lista, strano detto da me, mettendo a sinistra le foto e a destra le vostre considerazioni. È anche importante poi che facciate molta molta pratica, sperimentando con diverse tecniche e cercando di catturare appunto delle immagini che rappresentino la vostra visione del mondo. Una volta che avete sviluppato il vostro stile dovete essere coerenti, sia nel modo in cui utilizzate la tecnica fotografica che vi piace di più, sia per quanto riguarda proprio l'estetica dell'immagine. In questo modo le vostre foto saranno subito riconoscibili, anche quando il cliente scrollerà il feed di Instagram senza sosta e vedrà immagini scattate da tantissimi fotografi diversi. Costruite un portfolio. Il vostro portfolio è la vostra vetrina, quindi è importantissimo che sia curato e che mostri il meglio del vostro lavoro. Se fatto bene è uno strumento davvero fondamentale per presentare il vostro lavoro a potenziali clienti e per farvi conoscere. Per essere credibili agli occhi dei potenziali clienti però è importantissimo che siate dei professionisti, quindi avere la partita IVA vi renderà proprio professionali e vi farà avere nuovi clienti. Gli esperti di Fisco Zen su questo sono ultra preparati, ti aiutano a capire se è arrivato il momento di aprire la partita IVA e ti danno anche tutti gli strumenti per gestirlo online. Il vostro portfolio dovrebbe essere una raccolta delle vostre migliori immagini che rappresentano il vostro stile, le vostre capacità e la vostra visione, ad esempio appunto del matrimonio. Un buon modo per creare un portfolio di qualità e che vi rispecchi soprattutto è organizzare degli inspiration shoot dove potete proprio creare delle immagini che rappresentino perfettamente il vostro stile. In più avrete l'occasione di lavorare con professionisti del settore dando vita così a splendide collaborazioni. Ricordatevi però che è anche importante presentare il portfolio in modo professionale, non importa che sia digitale o stampato, l'importante è che la qualità sia ottimale e che il portfolio sia ordinato e facile da sfogliare. E arriviamo al punto, aprire una partita IVA. Come dicevamo, se volete diventare dei fotografi professionisti dovete essere pronti a trasformare la vostra passione in una vera e propria professione. Aprire una partita IVA è un passo fondamentale perché vi permetterà di lavorare legalmente e di avere maggiori opportunità di crescita nella vostra carriera come fotografi. Perché non dimentichiamoci che in questo modo potrete finalmente pubblicizzarvi. Infatti, chi non ha una partita IVA non potrebbe promuovere il proprio lavoro attraverso un sito, un account Instagram o Facebook. Apprendola invece non avrete limiti al successo che potrete raggiungere. L'argomento partita IVA spaventa sempre tantissimo perché sorgono una marea di dubbi su quanto costa mantenerla, su quante tasse bisogna pagare. Per questo motivo mi sento di consigliarvi una soluzione che è davvero comoda e facile e che vi permetterà di risolvere ogni dubbio e di avere una totale assistenza dal punto di vista fiscale. Sto parlando proprio di FiscoZen. FiscoZen è un team di commercialisti che offre un servizio online per la gestione della partita IVA. Il servizio è completamente online ed è più veloce ed economico rispetto a un commercialista tradizionale. In più include un commercialista dedicato e specializzato nella nostra professione che quindi vi aiuterà tranquillamente a risolvere eventuali dubbi o domande sia al telefono che per mail. Se state pensando di aprire la partita IVA, il team di FiscoZen ve la aprirà in un giorno gratuitamente e la dichiarazione dei redditi sarà anche se online e senza costi aggiuntivi. La piattaforma poi include la fatturazione elettronica e una funzione molto utile di previsione delle tasse su ogni fattura che incassate che vi darà proprio un'idea precisa in tempo reale delle tasse che dovrete pagare. Soprattutto se siete all'inizio questa funzionalità è utilissima per darvi un aiuto su come gestire al meglio i vostri soldi. Se tutte queste cose vi suonano familiari e vi trovate in questa situazione allora potete prenotare una consulenza gratuita per sciogliere ogni dubbio grazie al link che trovate in descrizione qui sotto. In più utilizzando quel link che trovate qui sotto avrete anche uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento. Altro punto importante è il networking. Il networking è fondamentale per qualsiasi professionista e questo vale anche per i fotografi perché può aiutare a stabilire delle relazioni con altri fotografi e professionisti del settore e partecipare a workshop o eventi è un ottimo modo per ampliare le proprie conoscenze. Utilizzate anche i social per creare delle relazioni virtuali. Alla fine dobbiamo sempre ricordarci che dietro un account si nasconde una persona, non dimentichiamolo. Se magari all'inizio vi sarà difficile trovare qualcuno con cui collaborare non demordete. Internet in questo caso vi viene in soccorso perché vi mette in contatto con persone anche molto lontane da voi che potrebbero però avere dei valori e delle caratteristiche simili alle vostre. Siamo tutti dotati di un talento unico e la fotografia è una forma incredibile per esprimere la nostra creatività e raccontare storie. Non importa se siete dei fotografi principianti appena all'inizio o dei professionisti, l'importante è non arrendersi mai e continuare ad imparare. Usate le opportunità che sono a disposizione per costruire relazioni, ampliare la rete e soprattutto divertitevi in questo meraviglioso viaggio. Vi ricordo che i ragazzi di Fiscosen sono a disposizione per qualunque dubbio relativo alla partita IVA o alla fiscalità e che potete prenotare la vostra consulenza gratuita dal link in descrizione con lo sconto di 50€ sull'abbonamento del primo anno. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima settimana!